io adesso non conosco il codice deontologico dei notai ma immagino che ovviamente mi sono documentato, c'è una legge notarile che dice che il notaio deve accertare la volontà delle persone contraenti, le vere intenzioni, la legge è una norma interna? no, no, è una legge, risale a 30-35, 1930-35 perché qui io leggo, intimavano addirittura minacciosamente agli stessi, o la filmi così, come compilato, oppure non compri cosa vuol dire intimavano minacciosamente? adesso minacciosamente, o filmi o non filmi, se non filmi, punto e basso è chiuso, non compri, chiuso stante l'esistenza di una partita non è che diceva, tanto è vero non compri, non ti faccio in oggetto, punto e basso e adesso la situazione qual è? è stata comprata la casa, adesso mia moglie l'ha comprata però le conseguenze di tutta questa situazione quali sono? che è la mancanza di trasparenza che abbiamo invocato, diciamo, della causa che è stata la respinta, la mancanza di trasparenza che io personalmente e tante altre persone hanno chiesto ai notaie di avere, per quanto riguarda sia i documenti catastrali, sia le certificazioni, i regolamenti di condominio, perché le tabelle millesimali, eccetera, che non sono state mai date, praticamente risulta che adesso ci troviamo in una situazione che è catastrofica, perché il regolamento di condominio depositato dalla VIS alcuni giorni prima della vendita, praticamente è un regolamento farraginoso che non funziona, le tabelle millesimali non sono chiare perché non è spiegato il perché una tabella dice che io ho 30 millesimi e questi 30 millesimi con quale procedimento ci si aggiunge, praticamente negli accordi era previsto che si doveva fare la impermeabilizzazione dei terrazzi, l'impermeabilizzazione è stata fatta distruggendo i terrazzi, perché l'impermeabilizzazione è stata posta al di sopra della pavimentazione dei terrazzi, per cui la guana è impermeabilizzante, non è calpestabile, per cui praticamente non sono più praticabili. C'è il fatto che praticamente l'impianto di riscaldamento sembra che non sia conforme alle norme di legge e così poi praticamente c'è i solai di copertura delle autorimesse che mostrano paesi infiltrazioni e non si sa la durabilità di questi solai se sono resistenti o non resistenti eccetera eccetera. Ci sono tutte queste cose che praticamente non sono state verificate da chi? Dalle persone che erano nostri mandatari, che in altre parole questo compito potevano fare, diciamo quelli che si sono arrogati... Cioè voi alla fine, chi è che contestate? L'organizzazione sindacale poi alla fine? Certo. Mi sembra che gli notai alla fine, anche se in qualche modo, però sono stati quasi costretti diciamo a fare... La procedura prevedeva ovviamente che dovessero gli inquilini sottoscrivere questa procura a un non meglio attualmente identificato procuratore in assenza di quella procura da conferire al procuratore della Tintoretto si decadeva dall'esercizio del diritto di opzione, quello prevede la procedura. Ci fermiamo per un attimo, pubblicità e poi ritorniamo per tirare la somma in qualche modo. Bene, ritorniamo ancora in studio, a questo punto quello che vorrei chiedere, a questo punto io vorrei chiedere più che altro, no, più all'avvocato Andrea Baudino, ma in tutta la vicenda, insomma, di quello che stava raccontato appunto dall'ingegnere Rassile, dal signor Campolo, insomma, tra l'altro io ho dato anche il numero, però non abbiamo ricevuto telefonata effettivamente dai inquilini del Tintoretto, viale del Tintoretto, chiedo scusa, 88, ricordo il numero 0645481854, però adesso c'è poco tempo, speriamo che riusciamo almeno, se arriva, almeno una telefonata forza riusciamo a farla. Comunque, quello che vorrei dire, in tutta la vicenda, avvocato, cioè cosa c'è di lecito, illecito, illegale, legittimo, illegittimo, oppure eventualmente se soltanto magari, diciamo che le, come dire, le mancanze in qualche modo sono soltanto a livello, diciamo, etico poi alla fine, cosa c'è, diciamo di, come dire, ci sono mancanze etiche oppure sono proprio violazioni, in qualche modo, ovviamente per quello che compete poi il mio ruolo, noi abbiamo cercato, diciamo le norme codificate della legge, certo, noi abbiamo cercato di sottoporre all'attenzione del giudice la vicenda proprio in tutto il suo evolversi e ovviamente abbiamo puntato l'attenzione sull'esistenza di questo conflitto di interessi per i motivi che risaurientemente credo abbiamo richiamato in precedenza, puntando quindi all'annullamento di questi contratti, cioè l'esistenza di un conflitto di interessi è già una violazione che può imporre una sanzione civilistica, in questo caso, che riguarda appunto l'annullamento dei contratti e comunque, in seconda battuta, o quante si voglia, menzionare in questo modo un inattempimento dei sindacati a quello che era l'oggetto del loro contratto di mandato, quello di far acquisire gli appartamenti al minor costo di acquisto possibile. Poi è ovvio che non abbiamo avuto, e questo è un peccato, è forse un'occasione mancata e di questo mi dispiace che non si sia potuto approfondire da parte dell'autorità giudiziaria la vicenda nel merito, ma ci si sia soltanto fermati all'aspetto formale che io non condivido, quello della mancanza dell'esistenza di un diritto di opzione. Diciamo che l'Italia è effettivamente il paese dei conflitti di interesse per la fine, penso che... Non è il primo e non sarà l'ultimo caso. Ci sono dei conflitti di interesse macroscopici che addirittura sono regolati a leggi di Stato in maniera piuttosto severa, però spesso sono stati ignorati, adesso non entriamo nel merito, se no dobbiamo fare un'altra dismissione assolutamente. D'altra parte le trattative di dismissione di complessi immobiliari a livello privato sono ancora una materia vergine in un certo senso, sono regolamentate a livello pubblicistico, quindi forse sarebbe stato anche una pripista da parte della giurisprudenza per poter un attimo capire le eventuali o presunti irregolarità. Perciò diciamo alla fine... Un'occasione mancata. Sicuramente eticamente sicuramente la vicenda è piuttosto... Qui lascio la palla degli inquilini che vedo comprensibilmente amareggiati. C'è poco da essere... Però diciamo che legalmente alla fine la procedura è stata più o meno lineare. Guardi, io ho ipotizzato una serie di violazioni, secondo me così lineare da un punto di vista legale non è stato, ovviamente ripeto e ribadisco, è un'occasione mancata attraverso una sentenza per capire veramente poi nel merito che cosa ci sia stato di irregolare o meno. Il giudice si è affermato ad un aspetto formale. Però mi sembra che sia una testimonianza, un'altra testimonianza appunto di un altro inquilino appunto del Via del Tintoretto 88 che fa parte appunto del gruppo che in qualche modo ha citato poi in tribunale davanti al giudice la visa SRL, la Tintoretto eccetera eccetera. Si parli del signor, si tratti del signore Giuseppe Mucci che dovrebbe essere in linea con noi. Pronto, signor Mucci? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No, io non faccio parte di quel gruppo che ha citato, diciamo entrato in causa. No, ah perché io chiedo scusa per l'inesattezza. Eh? Chiedo scusa per l'inesattezza insomma. No, vabbè non è un problema, però sono molto amareggiato perché io non ho comprato l'appartamento per i miei motivi personali, tra uno che posso citare è quello che non volevo dare nessun euro che non fosse per il mio appartamento, questo è uno dei tanti motivi, comunque voglio dire questo che le organizzazioni sindacali hanno accompagnato perfettamente anche coloro che non hanno acquistato per fare il contratto di affitto, tanto è ve lo dico non l'ho filmato. Neanche il contratto di affitto? No, assolutamente. Lei ha cambiato casa poi a quel punto? No, no, abito ancora qui, abito ancora qui ed ho un contratto in essere vecchio che mi scade nel 2009. Non ho filmato perché il contratto di locazione che mi sono fatto mandare sempre tramite l'avvocato, perché io prima di filmare qualcosa voglio sempre leggere, è un contratto vessatorio in tutte le sue parti. In che senso vessatorio? Nel senso che è unilaterale, ossia, ce lo puoi spiegare magari, guardi abbiamo poco tempo però... Io lo spiego subito, a parte della durata del contratto, si parlava 5 più 2, parlano di 4 anni probabilmente di rinnovo per altri 4, a parte che il canone è aumentato del 50%, spiegabilmente, questo dicono per un accordo tra le organizzazioni sindacali e la dintore. Ma se quella cosa, il fatto che lei ancora risiede lì e fa capo a un contratto vecchio, come è possibile che il canone... no, io adesso pago quello che il contratto è in essere, occhio! Cioè ti ha detto che è una voluta sottosfera il nuovo contratto d'affitto? E quello che mi propone è un nuovo contratto di affitto, nel nuovo contratto di affitto c'è scritto che tutte le spese straordinarie e ordinarie sono a carico del locatore, quindi a carico mio. Si parla che...